Nelle varie fontane di Roma, l'isola del tesoro, e a me questa idea di spaziare territorialmente sopra la città di Roma con tutti questi specchi d'acqua in cui formavano una specie di isole in cui c'erano queste oddighe che alleggiavano, mi è sembrata un'idea molto forte, molto importante anche a livello, ripeto, con un ragionamento territoriale. Però io non disprezzerei il quadro cosiddetto da cavalletto o da parete, perché poi è quello che dà la dimensione del raggiungimento di un certo tipo di percorso. Quindi ti chiedo, la pittura ti stimola poco oppure il fatto di non avere riscontro non ti attira o fa sì che tu ne produci poco? Ma io sono un po' tipico come artista perché di solito calcano una strada, un percorso e cambiano poco dalla tecnica, dal pensiero, appunto dalle caratteristiche dell'artista. Io invece sono un pochettino come te dicevo tipico perché invece cambio tecnica, posso cambiare appunto pure il ragionamento, posso cambiare pure il momento empatico con l'arte e quindi creare determinate cose diverse di una dall'altra, un po' sfuggente su questa cosa. un altro elemento che invece a me pare importante di mettere in evidenza in questa piccola chiacchierata che stiamo facendo che ci conduce così su una tua introspezione è il rapporto che io vedo in tralice tra la tua figura è quella di Piero Manzoni. Piero Manzoni che, voglio dire, tremano solo i polsi a parlarne visto l'importanza che ha avuto nell'arte italiana, anche poi ti intendo dire nell'arte figurativa, per quello che lui rappresentava, per quello che lui ha rappresentato nella internazionalizzazione dell'arte italiana. Piero Manzoni tu sei un suo ammiratore, hai riprodotto la famosa sequenza della sua merda d'artista in altra forma con un omaggio, così come altri elementi li hai in qualche maniera portati avanti, ma soprattutto portando avanti quell'idea che l'artista è l'oggetto dell'arte per l'ambito. Sì, per il cinquantesimo anniversario della morte appunto dei Manzoni ho riprodotto una bottiglia ricalcando la cosa che aveva fatto Manzoni, l'opera che aveva fatto Manzoni con lui per provocare eccetera eccetera che tutti sanno e tutti conoscono la merda d'artista, io ho invece la scoleggia d'artista a cinquant'anni di distanza appunto da quell'opera. e però come vedi il 2019 siamo ancora qui a discute sul esporre o meno un quadro che addirittura non essendo esplicito dà fastidio, dà fastidio e siamo qui perché però in questo caso questo clamore ha fatto sì che noi stiamo qui a discute. Allora, io mi avvierei a concludere questa così piacevole chiacchierata tornando a bomba, un po' vibrati, sull'origine di questa nostra occasione di incontro, questo qua. e quindi mi chiedo in qualche maniera di iniziare a guardarlo con occhi diversi e capire, certo è difficile sempre spiegare un quadro informale o soprattutto spiegare non è la parola corretta, io immagino sempre che qualcuno si può di fronte a qualsiasi oggetto e poi lo contempla, rimane sorpreso, lo guarda, c'entra dentro o altro. Allora, la domanda è ne farai altri così di questo genere oppure ti va, ti è sufficiente questo, è stato semplicemente un momento di passaggio oppure arriveremo a vedere una serie che poi possa essere riproducibile in un'esposizione dove magari troviamo sei o sento di questi oggetti? non lo iscrudo perché il Tildo è qui con me e quindi probabilmente, come dicevi te, farà una serie sicuramente. è sempre così a livello appunto di conoscenza cosa stai facendo adesso? Qual è la tua produzione? quello che hai in cantiere è quello che ti viene in mente oppure, per chiudere, cosa ti piacerebbe fare a Viterbo se avessi la possibilità di farlo? adesso sto lavorando sulla carta da paraggio e un collage che voglio fare questa volta appunto dopo questo quadro io, purtroppo per Viterbo al momento non so che futuro ci possa avere per mostri o cosa faresti tu? ma io ci ho fatto, ho fatto delle performance non autorizzate ovviamente che tu conosci e quindi quest'animo provocatorio non lo perderò sicuramente. voglio essere ancora più diretto e scavarti una risposta che voglio che sia precisa immagina per qualche motivo che tu domani diventi sindaco della città di Viterbo quindi io voglio fare qualcosa per la mia città indipendentemente dal fatto artistico o no cosa faresti? io chiuderei il traffico ai pedoni come prima cosa perché sicuramente con il traffico automobilistico hanno poco a che vedere e quindi la prima cosa che farei chiuderei appunto il traffico pedonale e ultima cosa visto che è l'argomento del giorno io so che tu sei un ragazzo che vive la notte eccetera quindi sei una persona che va per locali o altro cosa pensi di questo piccola diatriba che poi è sempre un bicchiere d'acqua che sta accadendo adesso a Viterbo sul nuovo regolamento del commercio la popolità notturna e tutto ciò che ne consegno tu so che sei un frequentatore di un ocario o altro ti chiederei anche qui di lanciare un messaggio oppure di esprimere quello che tu ritieni più opportuno più che un bicchiere d'acqua è un bicchiere di alcolico o superalcolico che comunque non comporta un problema perché in tutte quelle altre parti del resto del mondo non è che sono asterni quindi secondo me basterebbero dei regolamenti applicati quindi non dico niente di nuovo sicuramente è l'applicazione di regolamenti di leggi che fanno sì che lo svolgimento appunto pure della parte notturna della città che è importante che è importante perché proprio l'altro giorno camminavo per Viterbo ero uno dei seti del pomeriggio e sinceramente sembrava non solo notte inoltrata ma sembrava una sciagura un deserto come dice altro non è possibile il buio la notte deve aiutare la città a prendere vita appunto quando sporta sole allora io chiuderei e poi lascerei l'ultima battuta all'Ariaddo con un auspicio un auspicio che secondo me deve essere che la prossima volta che ci dobbiamo incontrare sarebbe bello farlo in un posto dove è deputato per questo tipo di eventi non che questo non sia qualificato e piacevole però io continuo a immaginare a uno spazio per l'arte moderna con una parola la più ampia possibile in questo senso dove ci sia una consuetudine mensile dove appunto poter andare e vedere di volta in volta opere di qualunque artista secondo qualsiasi tranquillità e dove poi ci sia un luogo anche di discussione e di conservazione perché altro elemento fondamentale secondo me è la memoria andrebbe creato un archivio di tutte le persone che hanno ruotato intorno a questo mondo non solo a Viterbo ma anche il fuoco gioconda per cui perderne memoria è un vero peccato per cui ecco ti lascio a questo punto l'ultima battuta e ti ringrazio di avermi dato la possibilità di parlare di questi argomenti che tu sai mi trovano sempre vicino e piacevolmente coinvolti no, sono io che ti ringrazio a te Gianni perché sei sempre presente e attivo quando si parla d'arte mi ricordo l'ultima mostra appunto come diceva Aldo all'ex ammazzatoio dove lui partecipe e organizzatore dell'evento che è stata molto bella sia per noi artisti che per le persone che hanno visto mostra chi lo sa ci vedremo a Viterbo probabilmente con un posto idoneo come dicevi l'augurio a questo grazie grazie a te Rialto, buonasera grazie grazie grazie